buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video siamo nel gruppo delle maddalene e oggi andiamo a fare il trekking al lago 30 si arriva fino a malga bordolona bassa dove c'è il parcheggio a 1806 metri che è a 8 chilometri dal paese di Bresimo subito dopo la malga prendiamo a destra sentiero numero 136 giornata pazzesca colori ottunnali fantastici e un azzurro meraviglioso anche oggi siamo fortunati il sentiero sale molto ripido è molto molto ripido in questo tratto qua tratto diciamo quasi iniziale dai siamo in mezz'oretta che siamo partiti però sale bellissimo in un contesto paesaggistico veramente molto bello al parcheggio erano tre gradi e adesso un caldo fotonico infatti anche Nicola e Renzo si levano i pile ed ecco qua davanti a noi malga bordolona alta malga bordolona alta eccoci qua da dietro la malga proseguiamo sul sentiero 136 verso passo al planner un'ora e 15 ai ragazzi una giornata meravigliosa tra l'altro da qua bellissimo è un'ambientazione bellissima e qua secondo me farlo in primavera è ancora più bello perché qua davanti a noi tutta questa costa qua sono tutto rododendri perciò in primavera sono tutti in fiore è arrivati a questa piletta questo vino di sassi il sentiero passa tutta mezza costa molto più pianeggiante iscriviti al nostro canale e dobbiamo arrivare fin lassù il passo è lì arrivati al passo al planner adesso qua dietro c'è il lago 30 eccoci qua ragazzi paesaggio pazzesco meraviglioso qua dietro di me c'è il lago è una favola è una favola ah 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 bene ragazzi è arrivato il momento di far ritorno diciamo che mi sono divertito col drone ho fatto una bella dronata finalmente sono riuscito a volare per parecchi minuti non c'è vento finalmente è andata bene speriamo anche che le riprese che vedremo questa sera siano venuti altrettanto bene l'importante è che io mi sono divertito stavolta col drone come dicevo adesso torniamo di ritorno ripercorriamo il sentiero che abbiamo fatto l'andata volendo si potrebbe tornare allungando il giro di un'ora passando in fondo al lago poi prendere a destra il sentiero 12 e fare tutto il giro della montagna di qua ma l'allunghiamo di un'ora perciò non vorrei arrivare al parcheggio della malga col sole tramontato visto che è una bellissima giornata andiamo col sole allora anche questo video finisce qua e allora se non siete iscritti al canale iscrivetevi che mi fate un bellissimo piacere e allora alla prossima ciao